E' un punto di testo, non mi asco a infilare in una riga competente, perché ormai ho sentito solamente di tutte le cose da dire per quanto riguarda l'elezione del Vice Presidente. Auguro al nuovo Presidente, Vice Presidente Cavallo, di mantenere i piccoli, sono sempre stati più vicini, perché la città, un bilancio che si è votato, è stato votato, quindi l'ha un po' grande aspetto di essere vicini all'attivizzazione, perché aspettiamo proprio l'esigenza di avere persone e di città, soprattutto su tutti i modi di distanza. Quindi il nostro punto è che purtroppo siamo vicini da due fuochi, due membri dell'opposizione per parte della candidatura, e noi abbiamo deciso sempre, insomma, forse è un fatto di simpatica, forse è un fatto che sono più vicini, se magari per capo a noi sono stati vicini, avremmo fatto che non si vedi, produciamo quel polizio, scusa a tutti. Grazie 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 a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.